Sono più di 800 a vittoria le famiglie che hanno la casa minacciata dalle aste giudiziarie, colpa soprattutto di una crisi infinita. Sullo sfondo la battaglia del mojento riscatti alta agricoltura che ha portato ad alzare il tiro della protesta. Da ieri infatti due donne hanno iniziato lo sciopero della fame a tempo indeterminato e se dovessero sentirsi male faranno la staffetta con altre due donne. Chiesta la modifica del 164 bis, oltre alla legge che permette di abbattere il debito delle famiglie se dimostrano un reddito minimo. Questa conferenza stampa la facciamo per lanciare ancora una volta l'allarme sociale, l'appello a tutte le persone di buona volontà della città di Vittoria, della provincia di Ragusa e tutta la Sicilia. In particolare agli agricoltori, gli agricoltori che sono tartassati dagli accordi Euro-Marocco, gli agricoltori che sono per l'80% falliti e quindi fuori dal circuito finanziario e che non possono, si stanno vedendo vendute le proprie case nel Tribunale di Ragusa con prezzi stracciatissimi, con ribassi d'asta anche del 90%. Ci saranno due donne che partono a fare lo sciopero della fame, sciopero della fame che tenda a sensibilizzare quella politica sorda, quella politica cieca, quella politica che non parla, che non mette parola, quella politica che si vede solo nel periodo delle elezioni. Iniziamo questo sciopero della fame per il motivo che aspettiamo delle risposte, delle risposte dallo Stato, dell'istituzione, dalla parte della Chiesa, di queste 830 famiglie che cosa ne vogliono fare? Che ci diano una risposta al più presto. Come sappiate noi inizieremo lo sciopero della fame finché Dio ci dà l'ultimo sospiro di aria, non molleremo, non ce ne andremo, saremo in ottranza, finiremo noi se ci sarà qualcuno che si sentirà male, ci saranno altre donne che continueranno la nostra battaglia perché da qui non ci muoveremo sicuramente finché non arrivano delle risposte certe. Queste case che vengono vendute, sfrattate le famiglie, cerchiamo di muovere e smuovere l'animo delle persone, di chi ha il potere di farlo.